Ciao caro fratello, cara sorella, caro amico, cara amica, pace e gioia, che il Signore sia con te. Io sono sore Emanuela, sono italiana, ho 32 anni, sono della provincia di Napoli, il paese più bello d'Italia, sono carmelitana messaggera dello Spirito Santo, il nostro è un istituto di origine brasiliana e attualmente io sono qui in Brasile da pochi mesi in missione qui e è una grande gioia per me poter farci compagnia in questo periodo e accompagnare gli amici della comunità Canto Nuovo e poter scrivere qualcosa per voi. Un grande abbraccio a tutti, uniti in preghiera.